ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi vi presento questo bellissimo set che contiene sei colori la base il finale e l'opaco dentro trovate anche il libricino con come usare questi materiali il set non costa tanto e riuscite a ordinarlo semplicemente con amazon i colori sono super pigmentati e molto comprendi con la matita mi segno lo posto dove sarà il mio disegno grazie Prendo nella punta del pennello un po' di base gel e sfumo i colori. Uso il paint bianco per disegnare la luna, poi con una spugnetta sfumo il colore intorno. Aggiungo un po' di nero in basso, se c'è bisogno lo sfumo con la base gel, se no lo sfumo solo con il pennello, così aggiungo un po' di profondità al nostro disegno. Copriamo tutto intorno con il nero e asciughiamo in lampada. Spero che vi piace questo design, se vi piace lasciatemi un cuore blu nei commenti. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.